Aeroporto di Bologna si è impegnato ad azzerare le proprie emissioni climaalteranti entro il 2030 implementando uno specifico piano di decarbonizzazione. Questo piano prevede la realizzazione anche di una fascia boscata che avrà un'estensione di circa 40 ettari corrispondenti a 56 campi da calcio e vedrà la piantumazione di circa 22.000 piante tra alberi e arbusti. Queste piante saranno in grado di assorbire nel loro ciclo di vita circa 500 tonnellate di anidride carbonica ogni anno e sono state attentamente selezionate con la finalità da un lato di ridurre al minimo il rischio di attrattività della vifauna allo stesso tempo massimizzando il potenziale di assorbimento di CO2. Grazie a tutti.